ciao a tutti ragazzi oggi vi volevo parlare di un progetto interessante praticamente dopo le proteste che ci sono in tutto il mondo partire dagli stati uniti dopo la morte di george floyd per il movimento black lives matter su itch.io che è questo sito che potete vedere qui dove molti sviluppatori indie mettono i loro giochi solitamente a pochi dollari e hanno fatto un mega bundle di tipo 742 giochi a 5 dollari per aiutare queste associazioni quindi praticamente il 50 per cento sarà donato alla legal defense and education fund mentre l'altra metà la community bail fund quindi un motivo valido per partecipare a questa cosa e per avere tanti giochi allora io ho partecipato e vi farò vedere praticamente ci sono 25 pagine di giochi che posso direttamente fare il download sul mio computer e poi far partire da lì ovviamente ci sono tutti indie quindi c'è qualcosa di discutibile però c'è qualcosa anche di interessante ad esempio vi faccio vedere qualche titolo io ho già fatto questo qui time stone che è un'avventura grafica dura pochissimo però è carina fatta bene simpatica quindi questa l'ho già fatta altrimenti come potete vedere ci sono di tutto insomma vari sia come grafiche molto diverse tra di loro ma anche vari tipi di giochi quindi rpg c'è visual novel c'è veramente di tutto poi ci sono quelli insomma di livello superiore ad esempio questo mind boss mid boss scusate almeno a vedere sembra fatto decisamente bene infatti costa 15 dollari da solo questo gioco qui e sembra un dungeon crawler e questo penso che lo proverò assolutamente insomma vedete sembra bello dettagliato questo sembra proprio interessante quindi ieri stavo un po spulciando per vedere cosa c'era di interessante da provare e vi faccio vedere qualche altro giochino quindi mi raccomando partecipate a questa cosa perché comunque rimediate tanti giochi ed è una motivazione valida insomma quindi vedete c'è veramente di tutto per tutti i gusti questo fa molto game boy questo è tipo un simulatore di gatto c'è pure wilson faurelia questo italiano l'ho provato non mi ha fatto impazzire l'avevo provato su epic perché lo regalavano su epic non mi aveva fatto impazzire però comunque un gioco italiano quindi da provare e niente poi vi volevo far vedere che ci sono anche giochi che stanno su steam che sono più famosi ad esempio ecco questo overland questo pure si vede che la qualità è superiore e l'ho già scaricato insomma adesso ve lo farò vedere un attimino per farvi capire un attimo e anche questo sembra fatto bene questo star drop c'è veramente c'è l'imbarazzo della scelta quindi sapete come passare il tempo non vi annoierete e volevo farvi vedere c'è anche un'avventura grafica di quelle che sono uscite ecco night in the woods questo esempio se non sbaglio sta su steam questa è proprio un'avventura grafica anche abbastanza famosa insomma quindi ecco costa 20 dollari è solo questa quindi per farvi vedere che sì magari ci sono cose discutibili però obiettivamente se si spulcia bene ci sono anche cose di livello più alto ma poi ripeto per tutti i gusti io ancora non l'ho visti tutti ho visto queste prime pagine e ho provato un paio di giochi ecco quindi secondo me era da condividere questa cosa perché ben vengano queste questi aiuti da parte di tutti ecco tipo anche questo village monster se mi ricorda un po star du valley e sembra carino insomma infatti ecco 15 dollari quelli che sono più carini sono quelli che sono fatti meglio e che quindi costano di più quelli fatti un po peggio costano anche solo un dollaro comunque ecco noi con 5 dollari che sono 4 euro e qualcosa portiamo a casa tutti questi giochi questo sembra interessante ripeto sembra un simil star du valley sembra fatto anche abbastanza bene se vi piace il genere sicuramente lo sarà di vostro gradimento questo sembra un horror storia della infanzia quindi c'è veramente di tutto per tutti i gusti con tutte le grafiche insomma anche questo sembra fatto bene di scappare dalla guerra questo ha vinto addirittura dei premi 2016 2017 quindi sembrano cose carine e volevo farvi vedere anche sempre se adesso mi capita non so se adesso o la pagina successiva vabbè mi sto facendo comunque avere un'idea generale di quello che è ecco questo pure the world begins with you a un platformer adventure e secondo me dovrebbe essere fatto carino però questo costa solo un dollaro in verità però onestamente sembra fatto bene non sembra una cosa un po inventata al momento sembra una cosa studiata e quindi come vi dicevo c'è veramente di tutto adesso vi farò vedere che overland ad esempio basta soltanto estrarlo da win da win dal rar e e poi farlo partire ha fatto coi uniti questo quindi insomma come vi dicevo ha fatto bene ieri l'ho iniziato un puzzle game di sopravvivenza molto fine del mondo quindi sembra carino è addirittura in italiano quindi anche se sono compriamo da uno sito statunitense comunque ci sono anche giochi che hanno la traduzione in italiano perché appunto questo se non sbaglio sta anche su steam e se non sbaglio anche per cellulare quindi overland vedete continua faccio vedere un pezzettino di quello che avevo iniziato ieri quindi questo era il mio personaggio poi a quanto pare cambiano ogni volta che uno gioca e si è unita a me questa qui che sono riuscita a salvare da questi mostri che vedete qui quindi praticamente è un gioco dove va ragionato ogni movimento perché poi questo si avvicina e bisogna cercare di prendere la benzina mentre la benzina scappare e ad esempio qui posso prendere questo bastoncino che non lo so che ci farò e devo cercare di vedere il tutto prima che questo mi raggiunga e niente ragazzi quindi oggi ecco volevo soprattutto farvi vedere questa occasione di prendere tanti giochi a un prezzo veramente ridicolo e niente quindi fatemi sapere se di vostro gradimento questa idea è piaciuta tanto infatti ho aderito subito e niente ci vediamo al prossimo video alla prossima